Ruspe in azione su di un terreno in zona belgato affanno di buon'ora questa mattina per demolire una baracca non accatastata su un diuterreno dato in affitto. Sembrerebbe detta così una delle tante operazioni anti abusivismo che vengono effettuate se non fosse che alcuni aspetti di questa vicenda hanno lati un po' paradossali e anche poco chiari con intrecci e rimpalli che rendono il tutto una matassa inestricabile e difficilmente decifrabile. Fatto sta che il proprietario del terreno è lo stesso che ha disposto la demolizione ovvero il comune di Fano e la famiglia affittuaria è la famiglia Piobici che da 18 anni è in uso il terreno che fino dal principio ha trovato la suddetta baracca sull'appezzamento di terra baracca che per la quale ha anche eseguito come mostrano le carte in loro possesso una bonifica da mianto richiesta sempre dallo stesso comune di Fano. Luca Piobici subentrato nella locazione ad una sua parente questa mattina però è stato chiamato in causa dai funzionari comunali per sanare questa nebula amministrativa. Nel 2006 questo affitto l'ho rilevato da mia zia nel 2018 prosegue a un contratto suo qui dove abbiamo tutta la documentazione dove nel 2006 questo terreno mio nonno l'ha ricevuto nel 2004 nel 2006 il comune mi fa fare lo smaltimento dell'Eternit con tanto di documentazione e dopo la bellezza di 14-15 anni oggi ho avuto questa bellissima notizia. La capanna c'era, non c'era, esisteva? Esiste dal 1980 diciamo dai rilevamenti aerei dove il mio geometra, il mio legale si occupa ora di risalire a tutta la documentazione. Sono molto basito perché su questo terreno avevo fatto un progetto, ma un progetto sociale basato solo sui ragazzi meno fortunati di noi. Su un terreno comunale mi trovo una capanna del genere che poi me la buttano giù. C'erano già e l'ho data per scontato, cioè nel senso se no non l'avrei preso, non mi avrei messo in un po' di cose così più grandi del mio portafoglio. Ma tra l'altro il comune le chiese anche di fare delle migliorie e cose che lei ha fatto. Che io ho già fatto, ho fatto un pozzo decollante, cioè nel senso che mi sono messo a norma e anche stavamo finendo di fare l'impianto elettrico dove il comune mi ha richiesto in una determina, in un contratto d'affitto che io sto mantenendo, ma ho dovuto mantellare tutto stamattina alle 6.30-7. Ecco, quello che a lei lascia la mano in bocca è un po' la tempistica, il modo. Certo, me le trovo le ruspe qui alle 8.30 e sono stato avvertito 10 minuti prima, cioè nel senso perché vengo a curare i miei animali. Se ho sbagliato pago, se non ho sbagliato pagano.